Il 14 marzo Confindustria Centro-Nord Sardegna ha organizzato a Venezia, presso l'hotel Casagredo, un evento di promozione della Destinazione Sardegna, dove tutti i nostri associati che hanno aderito avranno modo di fare networking e raccontare cosa facciamo ad agenti di viaggio, wedding planner, associazioni culturali e in particolare i principali DMC che si occupano di incoming dai mercati Nord America, Sud America e Canada. Destinazione Sardegna è un evento esclusivo quindi che ha l'obiettivo di incentivare il flusso turistico del mercato americano e non solo per le aziende della sezione turismo dell'Associazione degli Industriali del Centro-Nord Sardegna. Un'iniziativa nata a seguito di una richiesta condivisa da alcuni operatori ed emersa durante la partecipazione all'ILTM, International Luxury Travel Market di Cannes. In quell'occasione è stata percepita una crescente domanda del mercato americano nei confronti della Sardegna. Venezia, città di rilevanza turistica internazionale ma anche location collegata con tutto il mondo e sede di importanti agenzie, DMC, che si occupano dell'organizzazione di servizi logistici per turismo, vacanze e affari, rappresenta quindi la sponda ideale per porre le basi dell'arrivo dei turisti a stelle e strisce. Questi mercati rappresentano una grande opportunità per il Nord Sardegna. Si tratta di clienti mediamente altospendenti che desiderano scoprire e vivere la cultura e lo stile italiano. Chiaramente Venezia, insieme a Roma, Milano e Firenze, sono le prime mete per questi clienti che poi approfittano dei collegamenti diretti con Olbia per raggiungere 4-5 notti alla scoperta di una parte d'Italia autentica e unica per tradizioni e bellezze naturalistiche come la Sardegna.